Uno spiraglio di luce sembra aprirsi all'orizzonte per la prosecuzione dell'attività del centro di urno Alzheimer e del centro autismo dell'ospedale Raimondi di San Cataldo. A darne notizia ai familiari, al comitato bambini e ragazzi speciali di recente costituitosi e alle associazioni familiari Alzheimer e ISPED, il direttore generale dell'ASP Carmelo Iacono, dopo l'incontro di venerdì scorso a Palermo, della direzione strategica con l'assessorato regionale alla sanità. Una corsa contro il tempo, quella della direzione dell'ASP che ha deciso di assumersi la responsabilità della prosecuzione dell'attività per un anno visto l'imminente scadenza dei contratti Coco Pro fissata per il 31 dicembre dei circa 40 operatori dei due centri. Una gara d'ostacoli, quella che gli uffici dell'ASP stanno affrontando per evitare un ulteriore disagio alle circa 200 famiglie. Ci stiamo muovendo in una soluzione che ci potrebbe consentire di fare dei contratti e quindi di assumere del personale per un anno nell'emore che venga trovata una soluzione definitiva perché l'obiettivo è quello di istituzionalizzare e strutturare il servizio ritenendo che questi servizi che entrano nell'ambito dei LE che sono servizi essenziali non possono essere pensati come progettualità sporadiche ma devono essere assolutamente definiti come soggetti permanenti, come strutture permanenti che abbiano a cura il paziente in tutte le sue sfaccettature. Se parliamo dell'autismo partendo dalla diagnosi precoce al dopo di noi, se parliamo dell'Alzheimer partendo sempre da una diagnosi precoce a tutte quelle che sono le attività di riabilitazione e mantenimento delle funzioni essenziali della vita. Quindi questa è una soluzione che potrebbe permetterci di andare avanti per un anno e in quest'anno trovare quelle che sono soluzioni definitive per il futuro. Una battaglia quella intrapresa dalle associazioni coinvolte che intendono proseguire per reistituzionalizzare il servizio una volta per tutte. Siamo davvero grati alla Direzione Generale perché pone sempre grande attenzione nei confronti della problematica dell'autismo. Noi aspettiamo ancora una convocazione che è stata richiesta oltre un mese fa all'assessorato regionale e vediamo a che punto sono con le proposte che farà la Direzione Generale per poter risolvere almeno temporaneamente questo problema. L'auspicio è come ha detto la dottoressa Santino di voler rendere strutturale il servizio e risolvere il problema una volta per tutte perché l'autismo rientra nei LEA e pertanto non può essere gestito a progetto. Le emergenze non vanno gestite in questo modo. Deve diventare un problema che deve essere risolto in maniera strutturale e stabile, permanente.